Ecco, Benoit Giraud è collega della redazione ANSA di Aosta. Quali le attese rispetto a questa tornata elettorale? Le incognite sono molte e quindi è chiaro che rispetto probabilmente alle ultime elezioni regionali queste sono più interessanti dal punto di vista giornalistico perché potrebbero riservare alcune sorprese. In particolare le grandi incognite sono, uno, che cosa farà l'UVP, che si presenta per la prima volta alle elezioni regionali, che ha fatto un buon risultato alle politiche e quindi la grande domanda è che cosa potrebbe succedere e come potrebbe cambiare lo scenario. E ovviamente la seconda grande domanda è che cosa farà, che tipo di risultato riuscirà a raccogliere il Movimento 5 Stelle, che aveva un 20% alle politiche e che potrebbe influenzare con un risultato simile anche l'andamento complessivo delle elezioni regionali. Ballottaggio sì o no? È impossibile da dire in questo momento.